Nel video precedente Ciao a tutti ragazzi per venerdì in questo nuovo video per la sfida del lunedì Terzo episodio, qui Mirko, Federico, Alessandro e Riccardo C'era pure il new bro Cazzo sei il new, regà Eccolo Ok, questo è l'episodio speciale perché giocheremo in quattro due controlle su FIFA con due joystick Sarà un casino Ecco perché sul joystick ora giocheremo così più o meno Esatto, sul random.org vedremo le coppie Con squadre casuali nei mondiali Allora lui è il numero uno Due, tre e quattro Ok, vediamo O ti fa pure vedere Il quattro, Riccardo Si vede mai Eh non si vede cazzo Vabbè comunque è uscito il quattro, Riccardo Insieme a me Alessandro Io e Federico Saranno due partite Brasile E terra Brasile E saranno andate a ritorno Ok, queste sono le formazioni Per il Brasile Giulio Cesar Dani Alvarez Tiago Silva David Luiz Marcello Oscar Ramire Sulque Lucas Neymar più due William E l'Inghilterra Joe Hart Johnson Kyle GK 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 Bain's Gerard Bain's Gerard Bain's Gerard Lappart Selling Walcott Rooney Starring Via partiti Ok Ah sono facile Cazzo io Ah è vero Ragazzi No come si vuole Sì dai No dall'altra parte No No Porcazzo Oh mia Gerard Mi stava Oh di testa Di testa Vai vai Pugano e alto 1,2,20 Cazzo Cazzo Tira Ramirez No Oh Anzo Va 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 Ok Ok Aspetta l'auto Sufondo Dai corri Cazzo Rimetti in mezzo Tira Goal Lucas 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 Sì ragazzi Non giocassero No Un 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 Piara Io vi controllo Quasi Vai Passa C'è Un 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 Passa Passa Tira 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 No Cristo Ci penso io a cambiare Vai Ci penso io a cambiare Cristo No No Presta a un u a un 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 no 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 non lasciare proprio di me no 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 oh oh fermate guarda guarda no 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 ma che fai a prof che fai a prof inglesi come dire tira tira oh bello c'è nulla come 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 da luigi oh rica rica ma io faccio il pass ce l'avevo da davanti la palla vince qui così le batti in interna 3 a 0 cosa devo dire dai vince no ok tutto pronto all'iran stadium si parte qua non a per s che 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 la situazione a 90 tutto qui è girato io si è ancora passivo bongo ma quella è qui cinese o no traurè traurè? no DORGERE! Una a uno, la pareccia di questa, la voglio! Ah, il direttore! Yes, il terzino! No! Non c'è schifo, non c'è schifo Non c'è schifo Non c'è schifo Non c'è schifo Dirla! No! Ma vaffaffi Ma questo non la passa, manca a pagarlo Oh! Oh! Oh, DRA NO! DRA NO! DRA NO! Ah, io, se ne che amassa cazzo! Il bello stai girando Aspetta, 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 non ti prendi via Passate DRA NO! DRA NO! DRA NO! DRA NO! DRA NO! Ciao! CERCHIO, CERCHIO, CERCHIO! Come fai a facci di più? VATRATO! STA ALLUNTIATO UN METRO E VENDI DA PEI Come fai a facci di più? RALENTI SOLO IL GIOCCO! RALENTI SOLO IL GIOCCO! Ah, questo è un po' più lento Negro, non può essere lento CERCHIO Tu sei l'unico libro lento CERCHIO Ricca, ma... Ma io l'ho amassato, maledezza! Ma io l'ho passata! E là non voglio fare niente TRAURE! SON TRAURE! 4 a 1 E' UN BOLIGIO! E' UN BOLIGIO! Vabbè dai, ora sono 7 gol! 6 gol! 6 gol! Aiiii! Nooo! Che culo! Vieni, voi c'erete solo culo! Non c'erano solo noi Due partireggi Tiro! Oh! Questo è 5-1 Cotto e strafatto l'Iran 5-1 L'Iran! Ma che fa? Di Dio! Di Dio! Di Dio! Oh, bocca! Luka! 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 Quinto gol personale E' finito! Ok ragazzi vi lasciamo con la clip di Alessandro e Riccardo E' Riccardo Abbiamo usato questi 3 elementi Paprica Pepe E' acqua E' acqua E' acqua Facciamo vedere il contenuto già mischiato Oh! Allora Vomito de ratto Ok Se devi sbrattà sta qua fermo Te libero pure qua Lo so Allora comincia lui Inizia Riccardo Si beve mezzo bicchiere Sì per cazzo Vabbè almeno un sorso te lo dico Un sorso te lo devo fare Aspetta però qua No aspetta devi arrivare qua Aspetta Deve arrivare a un certo punto Oh però oh Vabbè inquadra Cameraman 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 Ok lì casca Oh com'è? E' buono Hai inizio con se sei piccato Oh no vai Non hai bevuto niente oh Porca troia ho fatto un intero sorso ho fatto Ti butta In bocca perchè Ce l'hai il bicchierino da caffè Come almeno lo faccio No vai Te prego Se fai tutto sorso Se fai i sorseghi piccoli fa schifo Tutto un sorso Tutto insieme Tutto insieme Eh stavano già 5 minuti eh Dai che non regge il video poi Tutto un sorso vai Tutto un sorso vai Buttata pronto giù Senta il piccante per carino Vabbè no la scialla Non è altrimenti cosa Ok ragazzi Questi qui sono le clip Spero che le clip vi siano piaciute Per oggi è tutto Lasciate un mi piace Un commento Anche alla pagina facebook Che trovate in descrizione E abbiamo anche messo gli utenti della PS4 Se volete aggiungeteci E per oggi è tutto Qui Mirko Federico E Riccardo Ciao ragazzi Ciao